Allora, ciao! Willkommen a Sirmione! Eccoci qua! Всем привет! Всем привет! Ah hi guys, hi everyone! Now we are in Sirmione! Si! We got the boat! Yes! Dove andiamo? No! Come andiamo! Dai! Destra e sinistra. Destra e sinistra. Stratta e sinistra. Vabbè dove vai andare? Vabbè. Vabbè dove vai andare? Vabbè vai! Vabbè vai! Vabbè vai! Vabbè vai! Vabbè vai! qua. Hai capito? Secondo me io vedo qualcosa di più interessante. Vediamo. Ok, vabbè, va bene. Che giornata piena di viaggi, che giornata piena di viaggi, che bello. Eh sì. Mamma mia. Eh sì sì, vediamo. Andiamo, mamma mia. È un gran casino. La donna che si chiamasse, io sempre. È tantissimo, pieno di gente, pieno, mamma mia. Sì, c'è la te, c'è la te, c'è la te. È una te, c'è la te, c'è la te. C'è la te. Perché è molto pesante, tutti gli persone prendono gelato ucciso. Mentre mi diceva che è molto pesante, tutti gli persone prendono ucciso. Ice cream, ice cream, ice cream, è molto bello, molto bello, molto bello, anche qui c'è pizza. E' bello, Castellino. Sì. mi sembra bellezza amore mi sembra bello mi sembra bello bene lì vado sei 2 euro dove C'è scritto lì? Dove? Ah no, un netto full price 6 euro. Amore, noi non siamo ridotti. Ridotto 2 euro. Andiamo. Ehi, amore! Pesce, pesce! Il pesce, pesce... Ehi, pesce, pesce! Ehi, pesce, pesce! Ehi. 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 Ehi, anche tu. Ehi. Solo le caldo a più. Ehi. Ehi... Ehi. 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 Buon pesciolo, pesciolo, vedi, vedi, eccola, eccola, andiamo. Il buon pesciolo, 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 eccola. Oh 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 Amore mi sembra finito Amore mi sembra finito Amore mi sembra finito Sì, sì, bellissimi. Non lo so. Allora, torniamo verso la città. Mi sembra che qui non sono forse lungomare. Ok, andate. Sì, sì, sì. Mi sembra che abbiamo fatto bello. Sì, sì. Adesso andiamo a prenderci un pagetto. Ora tu sai tutto. In che senso? Cosa io faccio? Ah, sì, sì. Guarda che io sono buoni. Sì, ma io sono buoni. Eh sì. Mi sembra questa... Io non conosco i papirini, amore. Questi papirini hanno avuto cucciole da Desenzano. De Desenzano. Potremmo siamo verso mare, torniamo? Prima è meglio guardare la città. Ok, vabbè, vabbè. Magari ci dobbiamo tornare dopo per fare la gara prenda di traghetto. Vabbè, vabbè. Eh, guardi, guardi. Perfollona. Chi c'è? Perfollona. Perfollona. Eh, che ti dico? Allora, andiamo. Guarda su quello. Amore, mi sembra verso questo la sedizione. Sì, sì. Aspetta, aspetta, aspetta. Alla prossima. Buon appetito! è dappertutto gelato guardi guardi a destra e sinistra a destra e sinistra sirmione full di gelati a destra e sinistra a destra e sinistra